Al via i lavori di ristrutturazione della palazzina, al cimitero dell'Ulivo, dove verrà realizzato l'impianto per cremare le salme. Il cantiere potrà creare alcuni disagi, per questo il sindaco di Fano Massimo Seri domani valuterà con gli uffici le soluzioni più idonee per tutelare l'incolumità degli operatori commerciali e dei visitatori. Il primo cittadino ha affermato che per ora non verranno revocate le autorizzazioni per entrare con l'autovettura privata, ma comunque l'accesso e l'uso dei veicoli verrà regolamentato nei modi ancora da stabilire, cercando di andare incontro alle esigenze di ognuno per le persone con difficoltà motori. Invece non sarà fornito a servizio navetta come annunciato ieri, ma sempre su richiesta ci sarà un mezzo messo a disposizione dal comune. C'è questa situazione in cui la navetta che abitualmente accompagnava e accompagna ancora gli utenti, i cittadini, dall'ingresso fino alle tombe è in riparazione e viene sostituita però da un altro mezzo, quindi c'è un altro mezzo che è una macchina per questo tipo di servizio. Quindi dal primo marzo, pur non potendo per un periodo, che comunque adesso valuteremo perché avrà un termine, le persone disabili non potranno entrare con il proprio mezzo, possono prendere accordi telefonando direttamente all'operatrice cimiteriale, prendere l'appuntamento perché la macchina si possa trovare nell'ora in cui arrivano al cimitero dell'Ulivo per poter accompagnare la persona che ha difficoltà a deambulare nella tomba del proprio caro. Ricordiamo che il servizio sarà disponibile dal martedì al venerdì con orario 9.12, il sabato e la domenica invece anche dalle 15 alle 17. Lo stesso verrà per la settimana subito precedente, seguente le festività dei defunti, la Pasqua e il Natale.